Sì, il porto di Oristano ha i suoi spazi, ha le sue banchine destinate in base al differente utilizzo e quindi dal momento che ci sono gli spazi si può fare tanto quindi i vari traffici, non solo croceristici ma anche di altra natura, possono sicuramente essere sviluppati ed implementati. Lei arriva da un'altra realtà, era già rivistato in Sardegna. In Sardegna per lavoro non c'ero mai stato, ho passato come turista e sono molto contento di essere qui in questa terra di particolare pregio paesaggistico e ambientale, qual è appunto la Sardegna e poi questa zona della Sardegna occidentale è particolarmente bella.